Uno dei dolci tipici atunnali della montagna pistoiese, i necci E tu ci metti pure le scaglie al cioccolato, ciao Stamani ho preso pure la riotta del pastore, ragazzi, la riotta di mucca Pissi po' di che spettaolo In una bulla andiamoci a mettere lo zucchero a velo e cioccolato E con un cucchiaio andiamo a girarlo bene bene E adesso prepariamo i necci con la farina di castagne Ho preso quella di mumigno, eh? Quella buona E poi, olex, vergine di oliva e acqua Facciamo un impasto tipo le creppe, tipo Se ci avete i testi meglio, se no in casa usate la padella, eh Mamma, che profumino di castagne, ragazzi Adesso ci mettiamo la ricotta dentro La stendiamo bene bene e dopodiché facciamo un bel cannolo Infine cosa c'è di più buono che il cioccolato fuso, dai Questo è un dolcino pistoiese, top